Ciao, sono la dottoressa Giassin Farina e oggi in questo video, ma anche nei video successivi, voglio parlarti di tisane. In modo particolare voglio dirti quali sono le tisane utili al tuo stomaco, in quanto è un organo davvero importante per l'organismo, in quanto digerisce tutto ciò che mangi e quindi curarlo è davvero importante. La prima tisana di cui ti voglio parlare è una tisana utile contro l'acidità di stomaco. Infatti la camomilla e la liquirizia sono delle erbe che fanno bene allo stomaco, grazie alla loro capacità proprio di proteggerlo dal fastidioso bruciore, ma sono in grado anche di placare il mal di stomaco da nervosismo e da stress. Come puoi preparare questa tisana? Ti serve il 30% di camomilla, il 30% di liquirizia, il 20% di altea e il 20% di melissa. Basta mettere un cucchiaio della miscela in un pentolino e portarlo ad ebollizione per due minuti. Il consiglio che voglio darti è quello di bere un paio di tazze al giorno dopo i pasti. Prova questa tisana e fammi sapere come ti sei trovata. Per qualsiasi domanda o dubbio non esitare a contattarmi. Grazie e a presto!